La nostra regione è fatta di tantissimi luoghi, di grandissimo fascino e bellezza. Non è quindi inusuale che li troviamo ai primi posti, fra i luoghi del cuore a livello nazionale. La Bastia di Lamoli è un posto incantevole, incontaminato in termini naturali. Sta turisticamente parlando in un cluster, uno dei tanti che ne marchiano, che è quello anche del turismo religioso. Ed è bello che una piccolissima comunità come quella di Borgo Pace possa salire agli altari della cronica proprio per la bellezza dei luoghi. È un invito a muoverci, a scoprire la nostra regione, a visitarla, come ha fatto giustamente il Sunday Times dicendo andate nelle Marche, consapevole che qua si trovano tante cose positive per chi vuole passare il proprio tempo in una vacanza straordinaria.